Col diretti Salerno si mobilita a tutela della pizza made in Italy, sostenendo la petizione nazionale per il riconoscimento dell'arte della pizza, quale patrimonio culturale e materiale dell'UNESCO. Domenica 23 novembre, presso il mercato di Campagna Amica, al Parco Pinocchio a Salerno, raccolta firme per difendere la pizza dalle tante imitazioni in giro per il mondo. In provincia di Salerno abbiamo già sperimentato una pizzeria a chilometri zero, alla quale i nostri produttori conferiscono mozzarella, farine, olio, pomodoro e verdura, spiega il presidente provinciale di Col diretti Vittorio San Giorgio. E' il progetto destinato a crescere grazie all'adesione di nuove pizzerie che sostengono il made in Salerno. Purtroppo una pizza su due viene prodotta con farina proveniente dall'estero, mozzarella ottenute non con il latte ma con dei semi lavorati industriali e con l'utilizzo di pomodori e oli di dubbia provenienza. Per questo motivo proponiamo ai consumatori una risposta a questa grande truffa della pizza taroccata, rilanciando i veri prodotti locali e diffondendo la nostra pizza dalle tante imitazioni in giro per il mondo. La petizione, ricorda Col diretti, potrà essere firmata durante gli appuntamenti settimanali con i mercati di Campagna Amica, in tutta la provincia di Salerno e presso le sedi Col diretti.